Figlia mia, eccoti al mio servizio. Ti benedico per questo lavoro e per la prontezza con cui hai aderito al mio richiamo. La prontezza nell'eseguire i miei ordini denota l'amore che ti unisce a me e non può non procurarmi grande gioia. È un piccolo sacrificio che ti chiedo. Lo so che tu sceglieresti più volentieri altre cose da offrirmi. Tutti vorrebbero la croce fatta a modo loro, ma se ti pongo addosso una croce, la faccio sulla misura delle tue spalle. Perciò non temere, ma abbracciala con gioia. Ricorda quelle parole che dissi altre volte. Non mi piacciono i vostri sacrifici, perché in essi voi cercate la vostra volontà. Tu, per piacere a me e al Padre, devi essere ansiosa di fare unicamente la nostra volontà e non la tua. Questo sarà il maggior bene per te. Tu desideri santificarti. Questa è la via, poiché noi pure vogliamo la tua santificazione. Desideri con la tua vita rendere omaggio a Dio che ti ha creata, redenta e affiliata a sé. Ebbene, ciò egli pure desidera da te. Ma non puoi fare diversamente che eseguire i suoi ordini. Egli è Padre. Non temere che ti comandi cose superiori alle tue forze e soprattutto sta certa che dandoti la croce, se tu vuoi, ti aiuterà a portarla. Anzi egli porterà anche te sopra di essa. Sii dunque preoccupata e ansiosa di capire qual è la volontà di Dio. Qual è la croce che ti vuol dare, e poi abbandonati in Lui e seguilo. Ve l'ho detto. Chi vuol venir dietro di me prenda la sua croce e mi segua. Amala la tua croce. Amala per mio amore e vedrai come ti sarà dolce portarla. Non fartela pesare. Non lamentarti di essa. Altri ne hanno più pesanti della tua e la portano con serenità. Ti è doloroso se ti devi alzare molte volte durante la notte. Ma pensi tu a coloro che vorrebbero alzarsi dal letto e sono impossibilitati? Ti sembra dolorosa una situazione finanziaria perché preoccupante. Ma ti rendi conto di coloro che stentano ad avere il necessario per vivere? Ti lamenti forse perché il lavoro è massacrante e dimentichi quanti disoccupati cercano ansiosamente lavoro? I tuoi acciacchi sembrano gravosi. Ma pensa quante persone alla tua età erano in condizioni peggiori e forse anche tra le tue conoscenti molte hanno già lasciato questa vita. Tutto è relativo per voi che vivete nel mondo. Tutto è diretto e governato da una mano sapiente. Benedici e ama il Signore in ogni istante. Protestagli la tua obbedienza e china umilmente la fronte dinnanzi a Lui. Umiliati. Riconosci il tuo nulla. Perché qui sta la tua grandezza. la tua pace. Nella tua nullità e nel riconoscimento del tuo nulla sta la tua grandezza. Ricordi la mia mamma? Piacque a Dio per la sua grande umiltà. Perciò il Signore si chinò su di lei e divenne la creatura più eccelsa. Nell'umile accettazione della mia volontà e nella sopportazione gioiosa della croce che ti do da portare sta la tua grandezza che è come dire la tua santità.